Eccolo qua, parliamo di uno splendido Polaris Trailblazer 330, colore rosso, unico proprietario, anno 2008, ottime condizioni generali, un ex noleggio quindi ha percorso prevalentemente strade bianche con gente poco esperta, tagliandato, gommato nuovo, 12 mesi di garanzia, richiesta 2800 euro con rate a partire da 59 euro mensile, unico proprietario.